L'imperativo è ritrovare continuità. Le premisse ci sono tutte. Bisogna recuperare due mesi maldestramente buttati via. Malgrado il debordante successo e danni della potenza, il saldo è ancora negativo. 11 punti nelle ultime 12 gare. Magro Bottino filo di tre vittorie e due pareggi. Ben sette le sconfitte. C'è dunque da ritrovare, come detto, la necessaria continuità. Il mercato di gennaio ha senza dubbio aiutato. Raffia e Merola hanno aumentato il potenziale tecnico dell'intera rosa. Con quattro attaccanti e due mediani centrali di ruolo, Craia e Jabua, sembra essersi aggiustato tutto. Attenzione però all'equilibrio tattico. Sarà testato contro avversari più competitivi. Senza voler sminuire meriti e prestazione oggettivamente di ottimo livello, il potenza è apparso davvero poca cosa. Ed ora l'impegno sul campo dell'Andrea. Torna a disposizione Brosco. Per Mora seduta differenziata. Al massimo andrà in panchina. Ancora infortunato il neo Bianchazzurro Gozzi, preso in prestito dal Genoa. Da valutare De Sogus, che accusa un lieve risentimento al flessore. Colombo potrebbe confermare l'undici sceso in campo contro i Lucani. Pugliesi ultimi agganciati dalla Viterbese, in classifica 18 punti di cui 15 ottenuti in casa, davanti al pubblico amico 4KO, uno in meno del Pescara. Dal 27 novembre domenica dell'ultimo successo sul Giuliano 2-0, l'Andrea ha racimolato la miseria di tre punti nelle successive 11 partite. L'unica vittoria del Pescara ad Andrea è datata 27 marzo 1994, serie B. Nelle immagini, la firma d'autore di Andrea Carnevale.